Ciao a tutti, sono Samuella Cazzanica, ho 42 anni, abito a Vergo Zoccorino e con la stazione di Bezani in bianza. Sono una casalinga e una mamma a tempo pieno. Ho quattro figlie di cui ne vado orgogliosa e loro sono molto orgogliose di me, di quello che sono riuscita a raggiungere fino ad oggi, essendo autodidatta. Ho ricevuto diverse pergamene di riconoscimento. Sono stata molto contenta di questo perché è il mio obiettivo, ho messo tanti impegni e tanta grinta nell'affrontarle. Niente, partecipo a questo contest, voglio mettermi in discussione ancora una volta e perché no, magari si vincendo. Io partecipo a Versus e voi accettate la sfida? Mane!